Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di quello che è successo l'altro giorno con delle news che si sono avvicinate, avvicendate non avvicinate, news unite a video, unite a informazioni generiche che sono venute fuori ufficiali e ufficiali perché sono state solo notizie ufficiali in questo caso niente rumor sulle nuove schede Intel categoria più prestante quindi le A7. Quella che tecnicamente doveva fare a botte, dovrà fare a botte con la 3070 o 3070 Ti. In particolare quello che è uscito nelle scorse giornate sono delle informazioni riguardanti la A750 che non è esattamente quella che dovrebbe picchiare la 3070 ma un po' più sotto, leggermente più sotto, quindi fascia 3060. Siamo usciti dei benchmark, innanzitutto è stato fatto un video di Intel in collaborazione con GamerNexus dove hanno spiegato un po' com'è Inter Arc, più o meno cose che sapevamo già, però era un video proprio per i neofiti per introdurre come funziona dalla nomenclatura a ogni cosa, un video interessante con una personalità veramente elevata di Intel. La cosa buona è che esatto, Steve è riuscito a prendersi in casa un tecnico, una volta buona e a fargli delle domande tecniche. E non il solito notizio del marketing. Bravo, esatto. Quindi abbiamo avuto delle informazioni anche un pochettino più approfondite sull'architettura, su com'è composto un X-Core, su quali sono le unità all'interno, cose che bene o male erano già trapelate un pochettino, ma dette da uno tecnico dentro Intel, ufficialmente, ha fatto piacere effettivamente. Oltre a tutta un'altra serie di informazioni che adesso ridiscutiamo appunto, perché ne hanno dette tante di cose, il video dura circa 30 minuti, forse qualcosa di più. La 750 però non è ancora stata recensita, questa è solo una semipresentazione neanche così tanto piena di dati, perché alla fine il benchmark ufficiale presentato da Intel presenta 5 giochi. Comunque giochi importanti, perché tra questi c'è anche Cyberpunk ad esempio, Formula 1 2021, Borderlands, Control e soprattutto anche Fortnite, quindi c'è un po' di tutto dentro questi 5 giochi. Questo per far vedere chiaramente come se la cava con giochi aggiornati, quindi con i giochi, non dico magari tutti tutti tripla, però alla fine sono tutti tripla, di fatto. Quindi i giochi aggiornati per far vedere che effettivamente le schede si comportano bene con le nuove librerie, con un po' di librerie in generale. In particolare durante il video di Steve hanno fatto girare tipo per tutto il tempo Formula 1, per far vedere un po' come se la cavava la scheda mentre parlavano. Però hanno introdotto anche nei vari grafici un gioco come Fortnite per dare anche quel massivo, diciamo. Sì, in sports, massivo, chiamatelo come volete. Quello che salta all'occhio guardando questi benchmark è che le prestazioni sono più importanti rispetto alla 3060. A volte anche di diversi punti percentuali, quasi 20 punti percentuali, che verrebbe da dire tallona quasi la 3060 Ti, vedendo questi benchmark qua più che la 3060. Ma in realtà non sarà così. Non sarà così perché il punto forse più focale e tra virgolette interessante della discussione tra Steve e non mi ricordo mai come si chiama il tizio che ha intervistato, diciamo, è stato proprio riguardante l'argomento forse più chiacchierato da quando si inizia a parlare, da quando si è iniziato a parlare di Intel Arc, ovvero l'ottimizzazione driver. Support driver. Il support driver. Quindi chiaramente Intel ha ribadito il concetto che loro sono leader nella grafica con l'integrate da anni e anni e anni, ma si stanno affacciando di fatto a un mondo completamente nuovo, completamente diverso con queste grafiche dedicate. Quindi c'è da rifare uno studio totale per quanto riguarda i driver, sia per quella che è la differenza nell'architettura che compone le Arc, sia per quanto riguarda l'aggiornamento delle librerie e l'ottimizzazione con i vari giochi per librerie più aggiornate e meno aggiornate. Cos'è che succede? Quando escono dei benchmark, anche ufficiali, è raro che AMD e Nvidia vi sparino delle cifre assurde. Sono ovviamente fatti con cherry picking, quindi prendono le cose che gli conviene e vi buttano i giochi, ma raramente sono dati falsi, completamente buttati lì. Sono i dati migliori nel contesto migliore, ma non sono falsi. Il problema è che poi, su schede consolidate, con anni e anni di sviluppo, su tutte le librerie, su ogni tipo di contesto, è ovvio che anche in quelle cose meno ottimizzate, la differenza quindi dal picco più basso al picco più alto non è che passa il 50-60%, c'è comunque magari una riduzione di performance in giochi non ottimizzati, ma non andiamo a livelli bassissimi. No, chiaro, e questo è ovviamente inteso con tutte quelle che possono essere le novità gen over gen di Nvidia o AMD, chiaramente. Quindi tu più o meno ti fai un'idea di quello che poi con la recensione, ovviamente nostra e anche di altri recensori mondiali, ti fai l'idea precisa di come va la scheda su tanti giochi. Però più o meno intuisci la posizione che occuperà. Qua è diverso, perché, l'han detto anche loro, in DirectX 11 non sono per niente a posto, per niente. Dalle DirectX 11 a dietro, ovviamente, perché quello che hanno fatto e quello che stanno facendo negli ultimi mesi, a pochi mesi diciamo dal lancio ufficiale worldwide delle schede, è quello di ottimizzare per le librerie più aggiornate, chiaramente. Quindi dalle DirectX 12 a Vulkan e lasciando un po' indietro quello che è il lavoro da fare con tutte le centinaia di migliaia di giochi delle librerie vecchie, quindi a prescindere dalla marea di giochi di DirectX 11, ma anche a dietro, quindi 10, 9 e così via. Con il PC è il contrario di come succede con PS5 o Xbox, anche se Xbox è un mondo a parte quest'anno, con le console in generale. Quando esce una console, c'è una console, pochi giochi che si adattano a quell'hardware, quindi funziona specificamente. Dopo sette anni, alla fine, c'è una marea di giochi. Quindi una console esce che non ha il problema dei giochi prima, perché tecnicamente, a parte questa generazione che comunque gira su architetture simili, c'è una continuità tra una genera e l'altra, di solito non c'è questa tipologia di problema. Il punto è che una scheda video nuova, con un'architettura nuova, con un'intelatura driver nuova, arriva sul mercato con decine di migliaia di giochi. Stima 20-30 mila giochi, ragazzi. Quindi deve essere compatibile con tutti quelli e funzionare greggiamente, come fa AMD e Nvidia, che comunque sicuramente non andranno al 100.000% su tutti i giochi, però sicuro non hai problema a far girare qualsiasi cosa ci sia in quel catalogo. E cosa buona, anche hanno detto che stanno lavorando proprio a stretto contatto anche con Steam per, diciamo, elaborare una strategia di ottimizzazione driver migliore. Beh, lì no, lì hanno detto che fanno top 100 giochi. Che fanno top 100, esatto. E utilizzano quelli. Esatto, esatto, infatti. E il percorso, però ragazzi, quello che voglio farvi capire è che il percorso sarà lungo. Io adesso non lo so che giochi giocate voi, però se magari avete un gioco di nicchia che vi piace ed è il vostro gioco, ad esempio, io mi piace tanto giocare d'indie su Steam e non gioco solo a AAA, in questo momento probabilmente Intel Arc non sarà la scelta giusta, perché è ovvio che ci sarà dal punto più alto, che è quello che probabilmente abbiamo visto su questi benchmark, al punto più basso ci sarà un bel gap, perché ovviamente stiamo parlando di hardware nuovo, con driver nuovi. Qui mi sorprenderebbe vedere davvero un 50% dal punto più basso a quello più alto. Sono d'accordo. Per cui è ovvio che tutto questo riguarda questa generazione, quindi le Alchemist, la prima gen di Intel Arc, perché chiaramente è un po' la gen pilota per Intel in questo ambito e che pian piano subirà varie ottimizzazioni durante gli anni. Non saprei dire se già da Battle Mage possano avere già fatto un passo grande in avanti o se sarà ancora molto embrionale come struttura driver, però di fatto è un lavoro che richiederà tanti anni di ottimizzazione, perché sono tantissimi i giochi da ottimizzare, tantissime le librerie da ottimizzare. Quindi tecnicamente potremmo dire che in un contesto giusto, tra l'altro su ad esempio un Cyberpunk, che è un gioco su cui Nvidia ha lavorato tanto, ma ha lavorato tanto anche AMD, la 750 può essere superiore, secondo Intel poi andrà confermato però, da questi dati, a una 3060. Ma sarà veramente difficile dire che overall, quindi alla media di tutto, perché vi ricordo non si fa come sulle console, ha un gioco, batte la scheda video di quello, allora va di più, si fa la media e in media sarà più prestante di soluzioni AMD e Nvidia. Bisognerà valutare il prezzo a cui verrà venduta e le esigenze di ogni singolo player, perché se alla fine voi non siete player, diciamo molto vasti, ma siete player abbastanza specifici che giocano la tipologia di gioco, più o meno sempre quella, può anche valere la pena, diciamo, questo tipo di soluzione. Però diciamo che già comunque avere qualcosa che inizia a avere performance interessanti, anche se interessanti, è una 2070, la 3070, è fascia media 2018, giusto per farci capire. Il discorso è che, come al solito, questi dati sono interessanti ma sono un po' affini a se stessi, finché non sappiamo effettivamente lo street price o anche un prezzo ufficiale da cui fa riferimento, perché ovvio adesso noi abbiamo quest'idea che la famosa A750 batte della 3060 in determinati applicativi, in determinati giochi, però costa di più, costa di meno, quanto costa di più, quanto costa di meno, quante ce ne saranno, quante ce ne saranno, se ci saranno, io dico mai. Quindi l'incognita, diciamo, rimane la stessa, perché nonostante tante informazioni siano trapelate in questi ultimi giorni, di prezzo ancora non si sa niente. Io vedo però lato positivo. Dopo maggio, dopo la presentazione che ci avevamo fatto vedere la scheda, che abbiamo fatto anche la live qualche mese fa, eravamo belli briosi perché vedavamo e poi in due mesi è morto tutto, praticamente non c'è stato più notizie, sono stati i rumor fake dell'A380 che poi in realtà si è rivelata comunque non una scheda prestante e poi dall'altra parte silenzio assoluto. Finalmente torniamo ad avere dati ufficiali, finalmente torniamo ad avere prestazioni, almeno notizie e comunque a questo punto io non vedo una, nel momento in cui fa vedere i dati, che ci sarà altri 3-4 mesi da aspettare, probabilmente usciranno fine estate, inizio autunno comunque. Sì, 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 verosimilmente sì. Tra l'altro un'altra cosa buona che è stata smentita, tra virgolette, sono le varie notizie che avevano fatto un po' il giro del web sul prezzo dell'A380 in particolare in Cina, che è uscita come sapete prima in Cina e adesso è disponibile solo là, che nella conversione che era stata fatta per i prezzi che c'erano per i sistemi all-in-one in cui era inclusa dentro, venivano fuori cifre sproporzionate. Molti tendono a fare paragoni di prezzo tra Occidente e Oriente, cosa che non puoi fare. Nel momento in cui hai un prezzo occidentale possiamo iniziare a parlarne, ma quando hai prezzi dall'altra parte del mondo in altri sistemi completamente diversi, infatti lo dice anche lui, la conversione è estremamente complessa da un mercato di quel tipo all'altro. Una volta che abbiamo il prezzo tedesco, USA, francese, che di solito sono quelli che vengono fuori prima, abbiamo già un'indicazione più che chiara di quanto costerà, soprattutto adesso che l'euro e dollaro sono praticamente pari, per cui di fatto abbiamo un'indicazione veramente, veramente facile, per cui aspettiamo a vedere, ma quando comunque tirano fuori il prezzo giapponese, cinese, taiwanese, quello che è... Le conversioni che vengono fatte lasciano il tempo che trovano. Tra l'altro è stata fatta vedere questa A750 nella famosa limited edition che abbiamo visto nella live, in quel trailer di pochi secondi che sembrava una figata apocalittica. è un po' plasticosa, però... Quello che te non hai capito è che nel 2022... A me non frega niente, io la compro lo stesso. Lo so, ma nel 2022 queste schede qua, in linea generale, nel momento in cui parliamo di prestazione delle schede video, sono cessi a pedali. Chiaro, chiaro, chiaro. Perché stiamo parlando, ripeto, di fascia media 2018. Nel 2022, quando le prossime schede dovrebbero fare più 50% rispetto alla 30-90, è ovvio che se poi fai più 50% in tal linea, quella sarebbe la potenza della fascia nuova, fascia bassa, o forse non ci arriva neanche alla fascia bassa nuova. Speriamo, perché se l'andasse come quello di quest'anno... Ok, però comunque tecnicamente ci dovessero... Cioè, stiamo parlando dell'ultra fascia bassa 2022. Sì, 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 sì. Cioè, questo è il punto. Quindi non puoi pretendere su schede di questa fascia una bella personalizzazione. Sono schede economiche, comunque, che devono far breccia nel mercato. Quindi sono d'accordo, basta tripli slot, 82 ventoli, neo, perché le schede devono costare poco, basta minchiate e torniamo all'essenziale. E poi, come al solito, una limited edition, quindi ce ne saranno pochissime, quindi ci sta anche lì il discorso. Tra l'altro, notizia di ieri, visto che state vedendo questo video domenica, verosimilmente, è uscita, è stata confermata anche l'A770, quindi la top di gamma, no, neanche, perché è la 780, la top di gamma, quindi quella ancora più alta. La 10 top di gamma. Quella che, in teoria, se queste sono le prestazioni dell'A750, dovrebbe superare o essere lì lì con l'A60 Ti. O con l'A70, no, beh, l'A70 invece è l'A80. L'A80, esatto. Quindi è stato interessante questi tre giorni dove abbiamo avuto nuove notizie di Intel, mentre dall'altra parte, di Nvidia, siamo passati a un silenzio sui rumor, rumor, perché comunque i prezzi, tra l'altro ci dovrebbe essere un price cut delle RITX a breve, quindi, cioè, ancora più bassi, quindi a questo punto il mercato si sta veramente inondando. Sì, l'unica cosa che si è vociferata sono ulteriori rimandi, rinvii ancora di mesi che non si sa se sono veri, finti, eccetera, eccetera. Quindi fa piacere avere informazioni in più per Intel che sta effettivamente uscendo sul mercato, non da noi. Però, ragazzi, pensate che si sta avviando quello che pensavamo noi, quello che speravamo noi, cioè arriva Intel in un mercato più regolare e iniziano a picchiarsi in tre magari anche per la fascia bassa, ritorna a esserci un po' di competizione e riesce a esserci roba per tutti. Quindi, finalmente, io sono, cioè, vedo ancora più la luce, ormai la luce la vedo in fondo al tunnel e questo mi fa solo piacere. La prossima metà dell'anno sarà interessantissima, quindi fateci sapere che cosa ne pensate di tutte queste informazioni. Noi, ovviamente, non vediamo l'ora di snocciolare anche tutti i tecnicismi, l'architettura un po' più, diciamo, in maniera precisa, non con informazioni così un po' volatili, con un bel foglio da studiarci per 48 ore di fila. E alla prossima, ragazzi! E alla prossima, ragazzi!